attenzione mi sentite mi sentite chi ha la radio chi ha la radio attenzione attenzione a quanto pare io ricevo e basta mistica se si è conciato comunque oh porca miseria cioè guarda come si è scato se si è conciato mi dico sono passato alle 11 ho visto dal bicchiere da soli eeeh purtroppo se si è conciato anche qua taglialo taglialo quello lì quello lì è per chi fa il sasso no taglialo lì se te lo toccate devo più su dovremo uscire se te lo toccate asimo troppo lo so lasciamo tutta la zona sui questo dove ha piccato la testa a spampi ha fatto il sasso solo che il tronco non è passato no davvero è rimasto lì stravaccato te lo ricordi no forse tu non c'è sono arrivato io cazzo là giù per terra semi svenuto dove l'hanno cercato di fargli dentro il pezzo ma vedi anche quelle schifezze qui figaro fanno lì di quei montoni puoi che anche questo è che cacchio la fila via da qua eh sì perché tu lo muovi da lì cioè faccio fatica morlo io da qua tu figurati dopo quando si muove va di là no buttiamo su almeno non resta qua almeno porta via con la schifezza qua questo è un ceppo che ha intagliato che non si sa da dove è arrivato è arrivato da su è caduto da qua perché questo è il nocciolo intero eh no ma quella viene via tutta dopo è proprio questa che ma faccia da tagliare a metà con la motospega se vuoi ma va ma buttiamo va Pietro non ce frega quello è un altro pezzo no è un tocco unico anche lui almeno lì vedi che di lei dove scendevamo eh vedi che questa qua si è appoggiata e ha ributtato fuori eh perché di qua dove scendevamo che facciamo un pezzettino si ma adesso la buttiamo in là dai 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 vieni di qua Pietro vieni da sta parte vabbè io butteremo via anche questa e quella lì mi te la tagliamo in mezzo ma questa la buttiamo sopra addirittura no butta la no là dove c'è l'ale la buttiamo dietro quel cespuglio si anche lì in mezzo di lì passiamo magari minchia è già andato avanti altro che no no quella lì lasciala lì che va via tutta quella sparisce è solo questo che resta qua a rompere il Marones e quello lì che pesa dai dai Pietro dai Pietro dai uno due tre vai noi guarda ci avrei scommesso che faceva il verso su questa ci avrei fatto le palle dobbiamo buttargliela dietro dobbiamo buttarla dietro per forza dai arriva quello forte siamo a posto c'è anche gli occhiali speciali oggi dietro l'albero eh dietro questa perché sennò scivola giù un'altra volta dai ancora boh e che cavolo poi tagliamo quello lì non si muove più boh bisogna attaccarci il laccio bisogna attaccarci il laccio